Ragazzuoli, nuovissima skin relativa ai cellulari, ai dispositivi Samsung e non, vi lascio qui la lista anche in descrizione dei dispositivi supportati da questa skin Sono su un Samsung Galaxy S8, come potete vedere senza cufe perché l'audio lo sto registrando qui dal microfono ragazzuoli del cellulare e con un'app sto trasmettendo lo schermo del cellulare sul PC così da registrare molto molto meglio E ragazzuoli abbiamo anche il nuovissimo pacchetto sfida P1000 che sarebbe quello della banana che secondo me non li vale 15 euro questo pacchetto perché ci danno la skin, il ballo e dei few bucks Poi non lo so, non lo so, io l'avrei fatto 10, un po' esagerato 15, ma comunque ragazzuoli non siamo qui per la skin, o meglio il pacchetto P1000 Ma siamo qui con questa ragazzuoli che come potete vedere qui sotto di me a 0 euro abbiamo la possibilità di prendere la nuovissima skin Bagliore A me è sempre piaciuta Destino che sarebbe la versione classica di questa skin qua Ci danno la skin appunto Destino, ovviamente in versione Galaxy se così possiamo dire e il balletto Bagliore, l'aura della vittoria, splende luminosa Vi ricordo ragazzuoli che il titolo non è clickbait perché giveaway, infatti in questo video vi dico, vi annuncio che farò un giveaway Che sto facendo un giveaway con questa skin quindi avrete la possibilità di vincere questa skin Semplicemente sono 4 step, 4-5 step veramente velocissimi Lasciare like al video, condividerlo, iscrivervi, attivare la campanellina, supportarmi come creatore con il codice Lucio Se inviarmi una foto su Instagram perché controllerò alla fine chi vincerà se mi ha mandato veramente la foto che mi supporta come creatore Altrimenti non gliela darò E ragazzuoli niente Quindi buona fortuna a tutti Ah ovviamente scrivete anche il vostro ID qui sotto nei commenti Quindi partecipo con il vostro ID di Fortnite Perché praticamente bisogna donarla questa skin In questo caso io l'acquisto ma penso di fare una roba dopo contatterò il vincitore Insomma vediamo un pochino voi nel dubbio Scrivete l'ID qui sotto nei commenti Batteria scarica ragazzuoli direi di sbrigarci ad acquistare questa skin Quindi Bagliore andiamo ad acquistarla Costa 0 euro ragazzuoli E' gratis per i possessori dei cellulari che hai scritto in descrizione e anche come avevo messo prima la lista Qui però dobbiamo mettere comunque la carta di credito Tanto tranquilli che Ok ecco Was successful Vediamo se dovrebbe aver funzionato Un attimo raga Si perfetto ce l'abbiamo Ce la dovremmo già avere ragazzuoli Un attimo Così Mamma mia raga Un attimo Ci spostiamo su PC ragazzuoli E la vediamo bene Ok ragazzuoli eccoci qui in lobby E mamma mia Quanta roba Che figata di skin Veramente GG Ed è gratis ragazzuoli Ed è gratis Questa è la cosa più bella Andiamo a vedere subito il nuovissimo ballo Quello relativo appunto alla skin Comunque raga guardate qua che figata Vi stavo dicendo che la skin è gratis Però dovete comunque mettere la carta di credito Non chiedetemi il perché Tanto è forte Non è un sito strano Di cui non potete fidarvi Quindi tranquilli Raga io direi Che ci siamo già persi troppo in chiacchiere Andiamo in giocatore singolo E andiamo a farci Una partitella Costa skin ragazzuoli Che mamma mia È tanta roba Perché L'avrei shoppata Destino normale Che costava 20 euro Ero molto tentato Ogni volta che usciva nello shop Ero stra tentato di acquistarla E vabbè Non ce n'è più bisogno Grazie Epic Games Mamma mia raga Che figata di skin È veramente stupenda Raga È veramente stupenda Veramente Ah ok C'è il ballo Raga c'è il ballo Ed è esclusivo della skin Ok ok raga Ci sono arrivato top Non capisco però perché Il lobby non me l'ha fatto fare Comunque raga Vi voglio dire anche un'altra cosa Perché molti di voi Mi state scrivendo Che anche voi avete l'S8 Però non riuscite a Vedere questa skin qua Nel negozio Non so come aiutarvi Veramente ragazzuoli Perché A me è uscita Non so se c'entra qualcosa L'Iconic Che è stata riscattata Che dovevate riscattarla Per avere anche questa Non saprei veramente ragazzuoli Comunque raga Mi fermo un attimo qui Solo per vedere il ballo nuovo Vediamo un pochino L'evitazione Mamma mia raga Ma di che cosa stiamo parlando Tanta roba raga Veramente tanta roba Per costare 0 euro È veramente tanta roba Mamma mia raga Questa è una skin da 20 euro Io vi ricordo Dai a questo punto Skin bella Ballo bello Speriamo di farci una bella vittoria E dai raga Eh certo Eh vabbè raga Siamo già morti Siamo già morti raga Non ci credo Non è vero raga Non è vero Non è vero C'ho 10 di vita raga Non è vero LOL Raga è il potere della skin È il potere della skin nuova Mamma mia Che figata di skin Che figata di skin Veramente bella ragazzuoli Fatemi sapere qui sotto nei commenti Che cosa ne pensate Mi raccomando Ok ragazzuoli Piccolo aggiornamento Ho trovato la mitraglietta 3 canate Ma ancora non ho trovato Curi Quindi lutto un pochino qua E vi faccio sapere Ok ragazzuoli Abbiamo trovato Uno scudone Quindi buono Per noi Perché Ci andiamo A 75 Di scudo 10 di vita Sempre In questo caso Dovremmo sperare Non milichi Ce n'è anche uno Quindi Forse non dovrei riuscire Anche a tagliare Abbiamo trovato delle bende Buonissime ragazzuoli Ok un attimo eh Perché questo mob ci puscia da là Ok non so cosa sta facendo Questo qui non ditemi che Appena terrato No ragazzi Questo appena terrato Me ne vado eh Eh ragazzi Sono morto Eh ma Per forza GG Aveva trappola Aveva trappola Non so come l'abbia messa Non so come me l'abbia messa Visto che io Ho continuato a spammare L2 Per mettere il muro Anzi no R2 Per mettere il muro E niente ragazzuoli Questo video era solo per Questo piccolo spezzone finale Era solo per provare la skin Io spero che questo video vi sia piaciuto Se così è stato Lasciate un bel pollio in su Condividetelo Iscrivetevi al canale Codice creatore lucius Nel negozio Oggetti di Fortnite Eccolo qui Mi raccomando Laga Inviatemi la foto su Instagram Che potete vincere Questa nuovissima Skin Glow Nuova skin bagliore Let's go ragazzuoli Ci vediamo nel prossimo video Bara la live Un bacione da lucius Statemi bene boys Che potete vincere